Sono Antonio Calzolaro e ho reeditato l'amore, la passione e lo studio del mandolino da mio padre e suono insieme al mio amico che è stato uno dei miei primi alunni di mandolino e di chitarra. Il nostro repertorio prevede molta musica popolare e tradizionale, si tratta di musica strumentale elaborata per mandolino e chitarra con ritmi che sono mazurche, polche, valser e quadriglie. La quadriglia è un ballo che ha tecchito nell'Italia meridionale dopo il periodo napoleonico. Peccato perché questo ballo, che è molto conosciuto nell'Italia meridionale in particolare, si è eseguito soltanto nel periodo di carnevale. Vogliamo fare un esempio di quadriglia? Per esempio, il primo? Ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, questo è un esempio di quadriglia e un altro esempio è quello di una mazurca. Vogliamo fare questo? Oppure quello di la mino, c'è anche quello di la mino, che vediamo? Questo qui. Facciamo una vogliafica. E' quello di lì? Sì, è questo. Due, tre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.